buona visione è l'ora ce l'hai fatta è magnifico sì ora speriamo che la tua idea funzioni perché non resta molto tempo ascolta bene Ezio devi cercare di volare di fuoco in fuoco il calore di ciascuno dovrebbe mantenerti in aria fino al successivo bene attento però ci sono arciari appostati sui tetti stanotte evita le loro frecce o il volo sarà breve vorrei aver modo di adoperare la spada mentre uso quest'affare beh hai piedi liberi se riesci ad avvicinarti abbastanza senza farti colpire potresti incalciarli giù dall'edificio carino o la va o la specca amico mio ma cosa? tirate! colpite il demonio volante! colpite il demonio volante! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cos'è stato? State tranquillo. Qualche fanciullo... con dei petardi. So voi. A voi un'offre. Grazie a tutti. 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 Tu mi hai ucciso. Tu hai ucciso me! Lo sto perdendo! La giù, prendetelo! Non lo vedo più! Lo vedo! Lo vedo! La giù, la giù, prendetelo! Non lo vedo! Non lo vedo! Un'altra giù, la giù, la giù... Non lo vedo! No lo vedo! Non lo vedo! No lo vedo! No lo vedo! No lo vedo!